Salve a tutti amici del web e ben ritrovati a un nuovo episodio della rubrica video di tè, biscotti e arte. Dalla sua apertura il blog sta andando a gonfie vele e questo solo grazie a voi che mi state sostenendo. Bando alle ciance e partiamo subito con l'argomento di oggi. La sigla OC, che in questo caso non si riferisce alla serie americana, sta a indicare dall'inglese la parola original character, ossia personaggio originale. La sigla è usata per indicare che quel personaggio presentato al pubblico è di propria creazione e perciò non appartiene a nessun tipo di brand soggetto a copyright. In realtà questo termine è usato erroneamente anche per indicare personaggi che sono ispirati a qualcosa e che in quel caso vanno indicati come fancharacter. I fancharacters in genere sono quelli più diffusi sul web, non perché il creatore intende copiare e simulare quel franchise già di per sé famoso. Al contrario, è un modo divertente e creativo per esprimere apprezzamento per quell'idea. A volte può capitare che un particolare personaggio possa diventare canonico, cioè che fa ufficialmente parte del franchise. In entrambi i casi gli OC occupano un posto di rilevo nelle gallerie degli artisti. Il motivo per cui si crea un OC spesso è legato a un progetto più grande, come un fumetto o un film d'animazione per esempio. Dopo aver steso la trama per la storia, bisogna dunque crearne gli attori. Stabilito l'aspetto definitivo del personaggio, si comporrà una scheda chiamata Reference Sheet, cioè Profilo del personaggio. Questo processo è di grande aiuto perché così si potrà sempre avere a portata di mano il design definitivo per futuri riferimenti. Chi non fa parte del mondo artistico non potrà mai capire quanto la creazione di un personaggio sia difficile. Alcune persone pensano che sia scontato riuscirci, ma non è affatto così. Ci sono tantissime cose da tenere in conto, come ad esempio il colore del taglio dei capelli, il vestito che indosserà, la sua personalità, la sua backstory e così via. E poi magari, anche se si è riuscita a mettere insieme una figura, ci sarà sempre quel qualcosa che non va e ci farà ricominciare da capo. Pensandoci bene che la reno sia come dare alla luce un bambino. È un parto difficile e complicato. Ma poi quando la tua creatura prende vita, la gioia è grande. Come se non bastasse che il tuo personaggio sia originale o ispirato da qualcosa, si incappera sempre in molti ostacoli, sia da un punto di vista artistico che motivazionale. E il tuo stile assomiglia a quello di un altro? No, tutti non lo sai, ma se non lo sai, 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 non lo sai. Non si deve mai arrivare a dire queste cose, né un principiante né un professionista, in quanto ne comporta una mancanza di rispetto per il suo lavoro, ma anche un duro colpo alla sua autostima. Al contrario, se qualcuno sta non va, bisogna correggere lì dove magari ha sbagliato e incitarlo a far meglio. La critica deve essere costruttiva, non distruttiva. Perciò pensate bene a cosa dire, se vi troverete a giudicare il personaggio di qualcuno. Bene, direi che per questo video è tutto. Cosa ne pensate all'argomento? Siete anche voi creatori di Ossì? Fatemelo sapere nei commenti. Sarà molto piacevole poter conoscere i vostri personaggi. Grazie ancora per avermi seguito e vi rimando ancora una volta al link del mio blog in descrizione. Prima di chiudere definitivamente vi segnerò l'apertura della pagina di sostegno Ko-fi, dove potrete sostenerci con piccole somme di denaro per poter acquistare un miglior materiale della costruzione dei video. Ciao!